Allora, andate tutti dietro, 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 dietro. Vabbè, comunque sono già capito che i concorrenti sono sei fin di classificare. Comunque. No, il numero nome no, eh. Non devo dire, però non è stato. Allora, dicevo, 49, cioccoloni Matteo, eh, 54, che tipo, dopo Stamas, 66, la diversa costa livella. Io non ho chiamato, sono, eh, mi dispiace, faccia che siamo qui, vedo, non è qui. Beh, scusate, nonostante. Quindi, seppi mi apparemento, 7th place, ah, number one, Alexei Kochenko, Procrascia, 7th place. Numero 7, Torej Gerard Camerouni, secchi con classificato. Numero 4, Dinuzio Simone. 23, Gaetano Lenato. 35, Priore Menigo. Complimenti. 47, Buono Claudio. Mi dispiace, ma come avete constatato, la teoria è veramente fortissima. 49, Giorgione di Matteo. Complimenti ai 7 di classificato. Mario, c'è troppo lento, muoviti. Allora, vediamo adesso ai primi 6. Sesto classificato, numero 54, 54, Costa Mas, Romandoli, 6th place. Quinto classificato, è il numero 12, la Barbera Domenico, quinto. Quarto classificato, è il numero 66, Daniele Sacosta Michele. Quarto. Facciamo un applauso, per favore. Allora, vediamo un po', io non posso, non posso avvicinarmi, che a tre, grazie, al pubblico, che dite? Incredibile, questo reggiorno. Allora, abbiamo, il numero, abbiamo questi tre, il nove, che è spagnolo, spagnolo, per un attimo, no, non un attimo, il nove, poi abbiamo il numero 67, da 7, che è, Salerno, Passo Romeo, e abbiamo il numero 48, che è, Cosentro. Allora, vediamo un po', questi tre, due italiani e uno spagnolo. Terzo classificato, un italiano, il numero 48, Moro Francesco. Bene, i primi due, possono salire, tutte e due, sul primo, sul primo, un po' più, salva tutte e due, qui, poi uno dovrà scegliere, purtroppo, uno dei due, scelterà, sul primo, sul primo, nasce, come, nasce, come, lo so, quando faccio questi giochetti, dovrebbe, come, io, si mettono l'opera, adesso facciamo un po' di suspense, per i studi, ma vediamo, chi scenderà, chi scenderà, chi scenderà, la luce, lo leggia, lo sapete. Allora, vediamo, se il passo, Romero, o il, o il, il signor, domingo, un riamunzoni, chi sarà il secondo? Sicura? Ah, ma be', eh no, mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace, non scende, ma sono me, perché il primo classificato, è domingo, di una, di una, bene! Il secondo classificato, è del passo del�io, di un' Ứto, il numero 65, domingo, e d'è, i talli, 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 Grazie.